Novità sulle dimissioni del governatore della Regione Raffaele Lombardo, quest'ultimo ha posticipato di due giorni la volontà di lasciare Palazzo d'Orleans. Dopo la rinuncia della maggioranza dei capigruppo all'Ars di presentare la mozione di sfiducia, ad eccezione del gruppo dell'Udc, Lombardo ha precisato che annuncerà le sue dimissioni a Sala d'Ercole il prossimo 31 luglio e non il 28, come precedentemente dichiarato. Il posticipare di 72 ore le dimissioni, però, non mutano le date delle probabili elezioni regionali previste per il 28 e 29 ottobre prossimi, da evidenziare come la decisione intrapresa dai capigruppo porta inequivocabilmente a decontrasti nell'asse PD e Udc. Il partito di centro, tramite il coordinatore regionale Giambiero D'Alia, censura l'azione intrapresa dal Partito Democratico. Ci amareggia e ci sorprende, ha dichiarato D'Alia, la mancanza di serietà e affidabilità del segretario regionale del PD Giuseppe Lupo e del capogruppo all'Ars, che con noi hanno sottoscritto la mozione di sfiducia. Il PD ha proseguito il senatore. Deve chiarire una volta per tutte se ha il governo con Lombardo o no. Tempestiva è stata la replica D'Alia del capogruppo all'Ars del PD Cracolici. Quello presentato dalla Adamo non era un documento, era un voglio di carta igienica. Secondo Cracolici, per rispettare l'accordo sulle date delle elezioni del 28 e 29 ottobre, era necessaria l'interruzione della legislatura al massimo 90 giorni prima.